La lettera di Monsignor Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, in preparazione alla festa patronale del prossimo settembre. Maria, modello di chiesa giovane, così si è rivolto ai fedeli. Sentiamo. Il Cardinale Angelo Becciu, perfetto della Congregazione delle Cause dei Santi, sarà a Molfetta nei giorni della festa patronale, il 7 e l'8 settembre, per ricordare il Servo di Dio, il Vescovo Don Torino Bello e per partecipare ai momenti più importanti dei festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri. Lo annuncia il Vescovo Monsignor Domenico Cornacchia, che nel suo messaggio in occasione della festa della Madonna dei Martiri, ha voluto anche ricordare il ruolo di Maria nella chiesa. Tutto l'anno è ritmato da celebrazioni in onore della Madonna, scrive Monsignor Cornacchia, ma soprattutto nei giorni delle feste patronali mariane, che lungo le strade delle nostre città risuonano i canti e le preghiere rivolte a Maria. Nel mese di maggio a Ruvo si onora la Madonna delle Grazie, durante il mese di agosto a Terlizzi si invoca Maria col titolo di Madonna di Sovereto e a Giovinazzo con l'appellativo di Madonna di Corsignano. Infine a settembre a Molfetta si celebra la Madonna dei Martiri. Queste feste sono il segno di una devuzione mariana ancorata saldamente alle radici della nostra terra. Ogni titolo attribuito alla Madonna, infatti, fa riferimento a luoghi fisici, eventi straordinari, circostanze storiche che confermano l'amore del nostro popolo a Maria. Come ha ricordato Papa Francesco, Maria deve diventare per tutti noi il modello per costruire una chiesa giovane che vuole eseguire Cristo con freschezza e docilità. La memoria dei prodigi operati da Dio nella vita delle persone, dice Monsignor Cornacchia, per intercessione di Maria ci deve condurre alla gratitudine perenne nei confronti del Signore, che non fa mai mancare la sua protezione e la sua benedizione, anche nei periodi più difficili della vita. È però necessario intensificare anche il nostro impegno per guardare al futuro della nostra esistenza, colorandolo di freschezza e docilità per rafforzare la nostra fede, consolidare la nostra speranza, potenziare la nostra carità. E in questo cammino Maria ci prende per mano come madre premurosa verso i propri figli ed è modello per la nostra vita di cristiani che desiderano mettere in pratica le parole e i gesti del suo figlio Gesù. Ai fedeli delle città della Dioce sia i turisti che visiteranno i borghi e in particolare agli emigrati che ritorneranno in patria per riannodare i legami familiari e rivivere nella gioia i giorni delle feste patronali, l'augurio del Vescovo Cornacchia affinché la Vergine Maria possa arricchire il cuore di tutti di quella speranza che solo una mamma buona come lei può infondere nel cuore dei suoi figli.